E dopo tutti gli allenamenti ricordate sempre che potete anche fare semplicemente il lavoro manuale e di conseguenza imposti power, start e stop e lui si metterà su 10 minuti e tu con il tuo telecomandino lo puoi aumentare o diminuire adesso con i programmi siamo andati a lavorare fino a 15 di potenza invece la pedana ci porta fino a 20 di potenza di conseguenza 20 di potenza, grande e sollecitamente sulla nostra coscia più che rimango al centro meno sento proprio le vibrazioni più allargo più le percepisco poi per finire in bellezza scendiamo a terra abbassiamo le velocità di nostra pedana e ricordate che anche la pedana è eccellente proprio per scaricare proprio come massaggio allora mi sbraio e appoggio proprio i polpacci sopra scarica, ti fa sentire veramente in forma, rilassato ecco arriva il mio bellissimo chestpunk il mio bel bacio alla mamma ciao a voi e ricordate anche volendo si può anche fare la pedana da seduti così da seduto guardando la televisione vi posso scaricare, dredare, potenziare e riposare grazie a Vigo Power ci vediamo alla prossima ciao